E' più a caldetta, Roberto, è più a caldetta, Roberto, no, 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 è più a caldetta, Roberto, Ale e Gianni, ha un pizzo, fa dei danni, con il ciro lo vincano, troce, ed imitati, ci si contorge, questi, come fumano, come cremano, forse erano, non sono, come una vedova nera, vera ma sta, gira per la città, la troia di Madà, 24 o ininterrotta, me, cacarca, c'è, ma non capisce niente, questi buffoni corrotti e codardi, infami di merda, bastardi, io un giorno, a Reggio, all'Eghi, di sé, guardavo, per te, se c'ero, non c'è, la storia, beh, di Pinturre, che fuma alla cà, ma non si fa la fe, e così fumavo e tranquillamente stavo, battendo veloce, un altro zero lavo, ma mentre tiravo veloce, su me stai, uno spirro arrivò, dicendo, viste un fe, e allora, frate, sapete che gli odè, quella troia di tua mamma, morirà il cabine, morirà il cabine, morirà il cabine. Attento, ragazzo, a ciò che dici, io ti sbatto dentro, anche se fai capricci, posso dire e fare quel cazzo che mi passa, o la divisa, sai, dentro non ho perso, farà, il mancanello nero, grosso e non so usare, te lo infilo nel culo e poi ti faccio girare, e poi ti faccio girare, e poi ti faccio girare. Ma guarda tu, sta a testa di cà, crede di cercarla, che mi spesso fa, e se per caso fai, o dici qualche cosa, lui ti arrecce, lui a robo un po', con le gazzelle levo là, per le vie della città, ma rama si fa va, con le luci blu e i baffi sulle spade, oh man, c'è, che puttale. Dove stai? Andando, chi stai cercando? Svuota le tasche, cazzo, stai aspettando? E se hai precedente, non farei complimenti, che anche con te, oh io ti spargo le idee. Ok ragazzo, puoi andare, perché questa volta ti lasciamo stare, ti lasciamo stare, ti lasciamo stare, ma che cazzo volete e cosa vi ho fatto? Stavo tra qui e voi mi avete fermato, e mi avete trattato come una merda, ma ve lo dico, infatti, io pulgo l'erba, e continuerò fino a che mi piace, passate il mio canone, ora madama, ora madama, ora madama. Grazie a tutti, grazie a tutti.